Ministro, è un piacere conoscerla, perché siamo genuani, mica peraltro, no? Oltretutto, Zagrillo è l'unico ministro che io non ho mai preso per il culo. Infatti, è una rarità. Perché, ed è un pregio, sa tacere, che è una cosa che pochi ministri sanno fare. Vabbè, mi siede. Beh, gli altri li hai tutti, Salvini, la tua vittima preferita. Diciamo che Salvini ci mette tanto del suo anche, non è che ci voglia moltissimo. Hai fatto anche un hashtag su Twitter, nessuno tocchi, San Giuliano a un certo punto. Eh sì, San Giuliano è stata una grande perdita per noi comici. Era un complotto. Devo dire che il suo sostituto ci sta cominciando a dare delle gioie, se il buongiorno si viene dal mattino... No, 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 è un ex fogliante, noi li vogliamo bene. Però, però, San Giuliano è tanta manna, era tanta manna. Però confido ancora, ci sono, in questo governo ce ne sono, c'è Lollo Brigida, insomma, c'è gente che ti toglie le castagne dal fuoco quando sei lì che non sai cosa scrivere. Dici, dai. Tu che fai TV e poi soprattutto hai un podcast tutti i giorni, che è comunque un impegno, credo, bestiale. Quindi con questo governo sei... Sì, no, devo dire che... Ti passi una quota dei ricavi. Sì, questo governo aiuta. Diciamo che in genere la classe politica italiana aiuta, non vorrei fermarmi solo al governo. Anche di là c'è gente che dà un sacco di soddisfazioni. Credo che sia perché sta subentrando una certa vanità nella nostra classe politica e la vanità poi porta a fare, a, come dire, a scivolare su una buccia di banana. E quando arriva la vanità io godo perché mi si aprono degli orizzonti e credo sia per vanità che Schlein va a fare il rap con J-AX. Sì, adesso abbiamo anche i ministri rapper, i politici rapper. E in questo San Giuliano era un campione perché era un campione di vanità. Lui più neomelodico che rapper, diciamo. Sì, ma in più poi lui aveva questa somiglianza non solo fisica con il giudice di De Andrè, no? Cioè con un uomo che si vedeva che aveva subito delle angherie nella sua vita e che finalmente era arrivato in un punto, in un posto di potere. E probabilmente era anche bravo, questo non lo metto in dubbio. Però questa posizione di potere gli ha dato alla testa, non solo la posizione di potere gli ha dato alla testa, diciamo che c'è un'altra cosa che gli ha dato alla testa che tira più del carro di buoni, diciamo. Intendevi la cultura? La cultura, la cultura. Senti, ma chi è il politico più vanitoso, visto che parli di vanità, secondo te? È una bella lotta, qua prima c'era il Calendone che è un altro che... Però tu hai ammesso di aver votato Calenda, ho letto. Io le cazzate le ho fatte tutte nella vita. Io non solo ho votato Calenda, io ho votato anche Oscar Giannino. Ti salutiamo. Oscar Giannino, io abitavo a Camogli e lavoravo a Milano. E non mi ricordo, quelle elezioni non erano d'estate perché il giorno delle elezioni nevicava. Quindi io ho preso la macchina da Milano, sotto la neve sono arrivato a Camogli, ho votato per Giannino, sono tornato a Milano. Il giorno dopo ho guardato sul giornale e a Camogli l'avevamo votato in otto. E io ho pensato, ma guarda te se uno deve rischiare la vita per andare a votare Giannino. E invece l'ho fatto, l'ho fatto. Prossimamente altri voti? Non lo so, io adesso sono molto indeciso, non saprei per chi votare adesso. Perché Calendone l'ho votato, poi l'ho preso per il culo e lui ha avuto una reazione molto matura, molto adulta. Mi ha tolto l'amicizia su Twitter. Giuro. Potreste fare un rap come Tony F e Fedez. Mi ha tolto l'amicizia e quindi un po' mi ha deluso come uomo. E quindi non so se lo voterei. Io, come dire, sono un vecchio radicale, però per votare per i radicali devi votare per sette persone diverse. Perché hanno fatto questa cosa bellissima che si chiama la galassia radicale, che è una roba di una mitomania assurda. Sono in tre, una galassia dello 0,3%. Però sono interessanti. Senti, in un tuo podcast recente hai parlato anche del dissing, che ormai è tutto un dissing. Sì. Quindi anche tra te Calenda, tra i politici ormai è... No, tre di loro fanno molto dissing, devo dire la verità. Che adesso anche Giulio Renzi l'hanno fatto. Anche se, anche perché poi noi siamo un paese talmente asino che ora devi dire dissing almeno due volte al giorno, se no non sei normale. Però credo che si prendano un po' le abitudini dei comici poi. Cioè, ormai nella società dello spettacolo il politico alla Zangrillo passa totalmente inosservato, perché non fa dichiarazioni, non va a cantare alla radio, non va... E io invece, devo dire la verità, preferisco ancora quei politici lì, che non si vedono e che fanno delle cose. Anche perché la mia paura è che la politica abbia sempre meno la possibilità di fare cose. Guarda, sono stato pochi giorni fa a una convention di un'industria tecnologica e lì ho visto dei vari speech di persone. Non so, c'era per esempio il fondatore di Waze, che è un signore che ha fatto questa start-up dopo la venduta a Google per un miliardo di dollari. Che è il Google Maps che non ti fa perdere. Esatto, un miliardo di dollari. E lì mi sembrava di essere in mezzo a delle persone che decidono delle cose e che non fanno politica però. La mia paura è che se la politica continua ad essere lo show che sta diventando, diventerà soltanto un'accumulazione di cuoricini che si spera si trasformino in voti, ma sarà difficile che abbia poi un impatto sulla vita reale delle persone. E tu sei mai stato tentato dalla politica attiva? Però hai fatto qualcosa... Parte che i genovesi che hanno fatto casino in politica... Eh, perché tu sei genovese e Genova è un po' un... non voglio usare l'orrenda parola metafora, però è una specie di iper Italia in cui è successo un po' tutto, cioè dai ponti che crollano, i Cinque Stelle, adesso la Tangentopoli, Ligure, c'è una specie di Italia in miniatura, tipo quei parchi che si vanno a visitare. Ed è brutto che Genova sia un'Italia in miniatura perché infatti Genova è una città vecchia, una città di vecchi, è una delle città più vecchie d'Europa. Il mio seggio elettorale è il seggio elettorale che ha più over 65 in Italia, cioè io nel mio quartiere sono un ragazzino. Ed è triste che Genova si stia trasformando in questo ospizio a cielo aperto. E un po' è colpa della politica, credo sia colpa anche dei genovesi, che non hanno proprio un carattere facile. Però la politica sta diventando questa cosa qui. E io non ho mai avuto tentazioni, ma anche perché quando ero a Palazzo Ducale a Genova ho avuto a che fare con la politica. e non mi ha fatto un bel effetto, nel senso che avevo a che fare con persone anche valide, che però vivevano una perenne campagna elettorale ed erano ossessionate da questa perenne campagna elettorale. E questa roba io non riuscirei a tenerla, non riuscirei a sopportarla. A parte il fatto che poi quando ero a Palazzo Ducale mi è successa una delle cose più assurde della mia vita perché un giorno doveva venire Mattarella e il giorno prima è venuto l'assessore alla sicurezza a parlare con noi è arrivato questo signore che sulla cravatta aveva disegnato una ruspa. E io ho pensato, ma che cazzo ho da dire io con uno che ha la ruspa sulla cravatta ed ha già compiuto 12 anni oltretutto. E quella roba lì, quell'ideologia lì della ruspa mi ha un po' allontanato dalla politica in generale. Adesso dovremmo fare la cravatta col chiodo, no? Sì, adesso dovrebbero fare la cravatta col chiodo, esatto. Ci ha fermato i treni di Salvini su cui tu hai fatto un'altra puntata del podcast sul chiodo, il chiodo che ha bloccato tutta l'Italia, tutti noi ci siamo interrogati. Mi sa che oggi ce n'era un altro chiodo perché il mio treno aveva tipo 120 minuti di ritardo. Roba da chiodi. Sì, sono chiodi che... Senti, ma tu hai fatto tante cose, teatro, cinema, televisione, il podcast. Qual è la tua cosa preferita? Che ti piace di più fare? Mi piace fare tante cose diverse e ogni volta che ne faccio una che va bene, cosa che non succede proprio tutte le volte, mi piace cambiare, farne direttamente un'altra. Devo dire che occuparmi delle persone nel podcast perché poi la politica è fatta di persone e occuparmi delle persone, quindi trovare dei miei difetti che poi diventano i difetti di tutti, no? Cioè il mio lavoro è molto anche un lavoro di autocoscienza, di guardare le proprie paure, le proprie debolezze, la propria vanità anche e poi raccontarla e guardarla anche sugli altri e quando la vedi sui politici poi è ancora più forte. A me è successo, molti di voi avranno letto l'intervista a Piero Marrazzo di due giorni fa, no? Ed è stato interessante leggere quell'intervista perché era un'intervista che toccava il cuore, vedere quest'uomo che è stato rovinato sia dalla sua debolezza sicuramente, però anche da un certo perbenismo. E io mi sono ricordato di essere stato probabilmente tra quelli che lo hanno perculato in quel momento, no? Era così facile prendere in giro una situazione del genere, cavoli, c'hai un presidente di regione che va a trance con la cocaina e la macchina, insomma più di così cosa deve fare uno perché uno come me lo prendeva per il culo. E quindi da una parte c'era questo senso di solidarietà umana nei suoi confronti e dall'altra però c'era la consapevolezza di aver fatto il mio mestiere, cioè di non avere nulla per cui scusarsi. Perché il mio mestiere è quella roba lì, è il mestiere di un gatto randaggio che va in giro e attacca quando sente l'odore del sangue. Ed è per questo forse che è un mestiere che andrebbe fatto con un po' di attenzione, soprattutto fatto da chi ha i mezzi per farlo. E in effetti la vera rovina di questo paese è stata sicuramente quando un comico ha cominciato a fare la politica, ma è stata anche quando i politici hanno cominciato a fare i comici, cioè quando hanno cominciato a giocare nello stesso tavolo in cui gioco io e a fare le battute, a rendersi simpatici. In questo modo hanno perso totalmente la loro autorevolezza, non sono diventati dei bravi comici e a volte come comici scarsi fanno dei danni. Vero. Applauso. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, a proposito del lavoro di comico, una cosa che ormai il 99% dei comici dicono è oggi con questo politicamente corretto non si può più dire niente. Cosa ne pensi? Beh, non credo sia vero. Sicuramente non si può più dire niente se sei un comico, perché se sei un politico puoi dire quello che vuoi. Vannacci dice delle cose terribili, per cui... Però credo che anche i comici non abbiano molte limitazioni, è un po' un... Secondo me è un falso problema quello del non si può più dire niente. Una scusa, dici. Ma sì, è anche, come dire, bello fare le vittime, dire che non si può più dire niente. In effetti si può... Io, come dire, lavoro nel mio podcast, vabbè, ma anche quando faccio la televisione ho piena libertà di dire quello che voglio. Certo, non è che posso mettermi a insultare le persone, però a volte ci vado vicino, insomma. Quindi credo soltanto che davvero dovrebbero capire, soprattutto i destinatari delle nostre battute, di essere davanti a delle battute. Io non sono un avversario politico. A me mi fanno molto paura i politici che mi rispondono. Poi ci sono purtroppo anche quelli che mi telefonano e che mi scrivono. Chi telefona? C'è un ministro di questo governo che mi ha scritto parte di scorso, mi ha stalkerizzato per un'ora dalle undici a mezzanotte per dirmi che le battute che avevo fatto su di lui non dovevo farle in quel modo lì, dovevo farle in un altro modo. E io gli ho risposto che preferivo far finta che non mi fosse mai arrivato quel messaggio. Devi registrarli come la boccia. Perché secondo me i politici dovrebbero capire che le nostre sono battute e che le battute non sono... Cioè il mio unico intento è quello di far ridere, non è quello di far cadere il governo. Anzi, io vorrei che questo governo diventasse più suppossibile, vorrei che Vannacci diventasse presidente dell'Unione Europea perché è tutta gente che mi dà da mangiare. però molto spesso invece il comico viene trattato non solo ultimamente, figuriamoci, viene trattato come un avversario politico e questo è un po' colpa dei politici forse anche un po' colpa dei comici. A proposito di telefonare, c'è stato un dissing per usare questa parola che tu odi ultimamente. Non so se hai visto Celentano, Teoccoli. Teoccoli ha detto che telefona a Celentano, Celentano non gli risponde, dice però non ti rispondo per il tuo bene. E invece Paolo Chessisoglu, che è il tuo socio da tanti anni, ha detto che non ti chiama se ha bisogno, chiama qualcun altro. Quindi diamo l'Italia in ansia per questa cosa. Diciamo che Paolo Chessisoglu non è l'unico che non mi chiama quando ha bisogno. Pochissimi mi chiamano. Sei sempre al telefono con i politici. No, io sono una persona molto, sono una specie di eremita per cui faccio fatica ad avere una vita sociale. Quindi questa è colpa mia, non è colpa di chi non mi chiama. Mentre sono interessatissimo del dissing tra Celentano e Teoccoli. Parlamene un po'. Hai un'opinione a proposito. Grazie. Grazie a voi, viva il foglio. Grazie, grazie Luca Bizzarri.